salve a tutti da casa del papi sono le 8 di mattina e ci abbiamo un problema grande con la mami no con totino perché praticamente la mamma ha preso in braccio totino ha detto che pesa troppo e adesso dobbiamo pesare totino perché ecco già l'ha preso niente ci stanno santi a misericordia stamattina ha preso subito adesso provvederemo a pesare totino e vedremo quanto pesa totino e se possiamo ancora dargli qualche stuzzichino extra che io non gli do mai ovviamente ecco no toto fermate fermate non rubato non ruba fermo vedi come se verano 5 di 4 un porco no è un barboncino no 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 sta 400 grammi su e quindi a dieta totino e possiamo da qualcosa niente totino amore una baglia più te ci mette più e non è possibile vabbè tutte queste disgrazie succedono a casa del papi e niente oggi è una mattinata un po così tutto de corsa ma siamo alla pesa di tutti speriamo che la mamma non mi ha preso pure a me oggi perché sennò veramente è finita suami pure tu devi essere pesata andiamo andiamo che la mamma ti cerca allora per il momento si danno due bacetti adesso suami anche per te oggi giorno di pesa vediamo suami se riesce a coprire la bilancia col peso perché suami veramente pesante suami vi faremo sapere il peso della nostra suami allora eccoci suami stai buona ferma 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 suami ecco un vitello ecco ma c'è che ci avevo qui in realtà la mica c'era una casa 6 chili e 8 suami 6 chili e 8 suami toto e suami praticamente tutti e due guarda il casino qua da mattina per tutti pure a casa del papi eccoli qua tutti e due comunque in due faranno 14 kg di barboncini e tutto questo succede sempre a casa del papi basta totino non cominciamo